4 ottobre 2018 ovviamente, si ripete quella che è la festa di un grande santo non solo per Melfi ma anche per la storia, San Francesco. Padre Giuseppe tu che sei il rettore di questo convento che si chiama, è dedicato a San Antonio ma lo era a San Francesco, una celebrazione particolare e tanta devozione da parte della gente. Beh noi qui a Melfi ricordiamo San Francesco in modo straordinario perché sappiamo bene che San Francesco recandosi in Puglia a Monte Sant'Angelo a venerare San Michele è passato proprio da Melfi e qui a Melfi ha lasciato dei frati che formassero qui una comunità francescana. Quindi Melfi a pieno titolo festeggia oggi in modo particolare proprio questa figura straordinaria di santo. Prima il triduo, poi ieri sera questa celebrazione particolare proprio che immette nella festa il ricordo del transito quando San Francesco ha detto mi spoglio di tutto, voglio essere il poverello che poi abbiamo conosciuto nella storia. Oggi è chiaramente la grande festa e soprattutto la messa di questo pomeriggio con il Vescovo a celebrare la stessa celebrazione insieme con te e con altri fratelli e poi anche questa tradizione, la lampada accesa con l'olio che viene rinnovato anno per anno. Sì, la lampada sappiamo bene è un simbolo importante per noi cristiani che dobbiamo sempre alimentare la fiamma che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo attraverso la grazia sacramentale. Ecco, è un segno, un simbolo che guardando la testimonianza di Francesco d'Assisi anche noi come seguaci in modo particolare ma tutti cristiani, tutti battezzati dobbiamo sempre alimentare questa fiamma viva che il Signore ci ha donato e che dobbiamo sempre tenere accesa e fare in modo che non si estingua mai o si spenga. Ultima cosa, guardando a San Francesco tutti più poveri, tutti un po' più umili ma forse più vicini al Signore grazie alla sua intercessione. Certamente, noi sappiamo bene che il Signore ha prediletto chi? Gli ultimi, semplici, poveri. San Francesco proprio sull'esempio di Gesù anche lui ha servito gli umili, i poveri. Ricordiamo bene quanti lebrosi San Francesco ha curato ad Assisi. Ci sono ancora delle cappelle ad Assisi che ricorda appunto questo gesto di Francesco d'Assisi che curava le piaghe dei lebrosi, che sappiamo bene che è una malattia contagiosa, ma che lui San Francesco per amore di Gesù Cristo curava e baciava. Quindi non dobbiamo mai aver paura di stare vicino agli ultimi e ai poveri, perché la gioia di dare qualcosa a quello che dice Gesù nel Vangelo, se avrete dato anche solo un bicchiere d'acqua a questi miei fratelli più piccoli, l'avete dato a me, significa essere persone evangeliche. Grazie.